La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento i deputati Bernardo, Bindi, Catania, Damiano, Faraone, Gentiloni, Silveri e Lo Sacco sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 85, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'Allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che con lettera pervenuta in data odierna il deputato Marco Marcolin, già iscritto al gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie, Lega dei Popoli, Noi con Salvini, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Misto, cui risulta pertanto iscritto. Comunico che il collega Gianni Cooper è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 16 e 35, con lo svolgimento della commemorazione del deputato Donato Bruno. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie.